Oggi ho parlato con la sua santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti. È il Presidente ucraino a dare la notizia all'intero Parlamento italiano in videocollegamento. La telefonata di Papa Francesco apre il suo intervento a Montecitorio, ma la notizia era già rimbalzata sul web, grazie al tweet di Zelensky in cui il Presidente sintetizzava i contenuti del colloquio. La difficile situazione umanitaria, il blocco dei corridoi da parte delle truppe russe, la fiducia nel ruolo di mediazione della Santa Sede per porre fine alla sofferenza del popolo ucraino e il grazie per la preghiera in favore della pace. Un nuovo segno del supporto all'Ucraina da parte di Papa Francesco, sottolineato anche dall'ambasciatore presso la Santa Sede, Andriy Yurash, che ha rinnovato l'invito al pontefice, già formulato nei giorni scorsi dal sindaco, a recarsi a Kiev. La sensazione è che i vertici del paese martoriato siano consapevoli che la Santa Sede stia facendo di tutto per porre fine a quello che anche questa mattina il Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, ha definito uno scempio. Abbiamo detto tante volte, l'ha detto il Santo Padre, lo ripeto anch'io, c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione, una soluzione che sia onorevole per tutti. Ecco, basta avere la buona volontà di farlo. La posizione vaticana è nota, fermare i bombardamenti e intavolare i negoziati seri. L'alternativa è la guerra con il suo strascico di violenze e morti. La Santa Sede è pronta a svolgere un ruolo di primo piano, ma tutte e due le parti devono volerlo. Intanto, nell'Account Pontifex, l'appuntamento al 25 marzo, quando Francesco consacrerà Ucraina e Russia al cuore immacolato di Maria per ottenere il dono della pace.